conicciua benvenuti a tutti voi qui sul canale sono come sempre giappo gamer benvenuto qui in un nuovo episodio di catering full body allora che ragazze ragazze siamo arrivati all'episodio numero 23 mamma mia ragazzi questo finale si sta avvicinando sempre di più allora andiamo a vedere che cosa succede a vincent e alle sue tresche amorose ok ottavo giorno è l'1.13 e come avete saputo nell'ultimo episodio catering e vincent si sono parenti lasciati anzi o meglio è lei che ha lasciato lui dopo parecchi anni anche di fidanzamento 5 anni lui se ne esce dal suo monologale un un Ah ok, non è l'attuale Stai ripensando a quello che gli ha detto lei A tutto il trucco Dell'essere incinta Eh, sayonara Oh il cellulare, buono buono Un bug eh? E vabbè ma pure tu porti l'ombrello sta piovendo ma cavolo E' chiaro che poi ti prendi una febbre o qualche cosa Mamma mia ragazzi, mamma mia Vediamo un po' che succede Mamma mia, veramente è messo male Eh già, se non rispondo al telefono Eh, ci sarà un perché no? Eh, ecco bene Ah ma c'è una giochetta con l'Italia Guardate, c'è pure la bagnere italiana là Ne dubito Non hai controllato? Non c'è nulla Eh, nandacore Cazzarola è scomparsa così dal nulla Porca la miseria È tutto sparito E appunto, le foto si? Porca la miseria No, quello no Quello no L'aveva anche già scaricato No C'è nulla E' un po' che c'è Ma che c'è sta succedendo? Porca la miseria Da cane bastonato E nessuno l'ha vista Eh già Poteva essere quella la mossa Eh fuori testa si Posso pure immaginarlo cavolo Eh mi sa che ti serve un bello psichiatra Eh già Una tipa come lei Nooo ma non credo No dai Eh infatti Non può essere vero Eh Però sono scomparsi tutte quelle cose Chiamate l'entrata Un'uscita Ma Questa è Questa è Vediamo un po', siamo uno street ship, al bar sotto casa, ottavo giorno, il nostro Vincent ha una marea di dubbi in capoccia, anzi gli scureggia proprio il cervello secondo me ma... Ecco Sotto sopra, è bello incasinato mentalmente a sto punto Con lei, visto lei è scritto in maiuscolo Eh già, mi sei messo proprio male, roba da psichiatria eh, ma di quella bella potente proprio Com'è il Dientarosa? E' un'accadena? Eh già, anche sì Beh insomma comunque, molti lavoratori giapponici sono comunque belli stressati eh Anche quando vado a Tokyo, comunque in Giappone ovviamente li vedo apparentemente quasi tutti i giorni Non c'è nessuno che vedi, non c'è nessuno che vedi, non c'è nessuno che vedi già meglio andare meglio andare no non sei pazzo però mentre ci sei vicino non Eh, che sta succedendo? Secondo me che sta diventando quasi matto Comunque, chiamiamo un po' che succede 19.48 Stiamo ancora al bar Lui sta presente ubriacando come non mai Come se non ci fosse un domani Ecco Erika Eh, dicevo No, non ci sono una settimana un'illusione eh già si saprete ubriagando bella un po' va si c'era qualcosa che cosa col boss mamma mia un sogno qualcosa che scompererà a prescindere da quanto si desidera credervi mamma mia e dai lascio stare è il boss poraccio eh l'hai vista si o no la chiave di tutto il boss è diro dai su oh cavolo ha vista pure lui un Mamma mia mamma mia Vabbè ok il boss è la pista Allora A smascherarmi Per l'intuito Eh come stanno Non possono vederla Che non è di questo mondo In una cittadina Cittadina come questa Altri Incubi Un Un Sì Rum e coca Possa farti da avere Eh già cosa ti riferivi Eh che ora metti in cascara eh Una piega imprevista Oddio oddio Oh cavolo Ma che è il demonio Oh porca la miseria Eh chi cazzo sei Sarà il demonio Thomas Mouton Ma senza impegnarsi Eh si Il tasso cresce Beh si Ok quindi Si arrampichi no Eh che diavolo sei Probabilmente il diavolo Eh infatti Eh infatti Eh infatti Al futuro della specie L'ora di naturale Tutto qua Porca la miseria E quindi Lei è un succubo Appare quando vuole Verso gli uomini Colpiti dalla maledizione Delle loro donne di ideale Ah però Beh giustamente Ma quindi Quindi che aspetta sei Sei un diavolo Non credo un angelo Non con quegli occhi rossi Eh Oh no E poi faccio questo lavoro Chiamo lavoro Ah Ah si Eh forse chi lo sa Ah si Comunque il sintomo di disfravenza Ormai c'è là Si è formato Diciamo Mamma mia Dai strozzalo Strangolalo Oh porca la miseria Sì è così Con il coltello Ma Eh Oh Ok Ma E' bene, ma... ...l'acqua non puoi capire? E' ok, ma... ...l'acqua è solo con questo tipo di malattia... Ma... ...l'acqua... Mamma mia, mamma mia, che storia assurda, ragazzi, mamma mia... ...che tu vinco perda? Mamma mia, mamma mia... ...ma sì, voglio... Eh, già, è stato una settimana da incubo... Già, bisogna mettere fine a questa storia Via un po' Gioca a spiegare dal boss Sì, chiamalo, chiamalo Mamma mia, ragazzi, che storia assurda Ok, è arrivata la mail E vediamo un po', parliamo un po' Con gli amici Parliamo un po' con Orlando Per una scommessa, tutto lì No, ci sono pure gemelle là dietro Ma che caspita Eh già, adesso siete adulti, giustamente Ok, vediamo ancora con l'Orlando Vediamo un po' Ma, spero di no Senpai, daijjobuska? Parliamo pure con Johnny Vediamo un po' Eh, che è successo? Scusate la scenata, eh, già Diplomatico nostro Vincent Eh già, bei tempi, già L'infanzia Gli amico che dice ancora Johnny Mi sta dando la testa È un bel sake Ai giapponesi Lo dà spesso e volentieri Mali testa, comunque Eh, lo so Sì, ok, abbiamo i mail Parliamo con Toby Diamo un po' che dice Eh, speriamo Dai, speriamo Speriamo Parliamo ancora con Toby Abbiamo un po' che ci dice Ok, quindi Toby Comunque non ha avuto gli incubi Buon per lui Ok, l'abbiamo parlato un po' con tutti Allora a questo punto Conturiamo il telefono Vediamo un po' che ci dice Allora Cryos phone Problemi con allegati Ma Signor Vincent Brooks Alcuni dei nostri ultimi modelli di cellulare Hanno difficoltà di accedere ai nostri servizi di archivazione online Ci scusiamo per l'inconveniente Stiamo risolvendo il problema Inviando ai nostri utenti Dati salvati online Tramite sms Vogliamo un'immagine Vediamo un po' Chiudere Oddio, ancora è lei Ma siete fatti la sorta di selfie Porca la miseria Porca la miseria E va bene, ok Bene così E allora Eccoci Tornati nella schermata Principale Di questo Caterin full body Ragazzi Mamma mia Che avventura Questo Vincent Li combina Avrete di cotte E di crude Comunque insomma Anche questo Episodio numero 23 È andato a buon fine E allora Visto Visto così Se vi è piaciuto Invito a lasciarmi Un like Un commento Una condivisione Con i vostri amici Che fa conoscere Il giopo gamer Lungo e largo Datemi una mano Se potete Ovviamente Vi ricordo Come sempre Di Seguirmi I miei vari social Pagina facebook Twitter Instagram Canale telegram Se volete avere Dei contatti con me Potete farlo Appunto Tramite i social Vi invito Anche a iscrivervi Al mio canale Se non Siete iscritti Mi raccomando Attivate la campanella Per rimanere Aggiornati Con i miei vari Di video Episodi Sul gaming Giapponese A 360 gradi In più Recentemente Se volete Saperne Sempre in più Sui Viogiochi Giapponesi Ho aperto Un blog Dove scrivo Prettamente News E Recensioni Sui Viogiochi Giapponesi E allora Mi trovate Trovate il mio blog Scrivendo Giappogamer.com.blog E allora Che ragazzi E ragazze Io vi ringrazio Desserti fin qui E dal vostro Giappogamer Per il momento È tutto Matane E ai vostri E ai prossimi Episodi Desserti fin qui